Io mi chiamo Laila Melis e aiutavo mio nonno a raccogliere rifiuti che si trovavano in mare quando ero piccola, però con il tempo che sono cresciuta ho smesso di farlo perché a Marcedino non tornavo più, venivo soltanto per le festività e quindi mi è piaciuto anche riniziare a farlo. Penso che sia una cosa molto giusta perché i pesci non dovrebbero mangiare quello che poi noi buttiamo e poi anche produciamo, quindi poi tornerebbe sempre anche a noi e farebbe male anche a noi. Mi è piaciuto molto, mi sta piacendo molto fare questa esperienza perché capisci anche nella realtà cosa succede in questi posti, magari cose che non avevi mai visto. Toccare con mano quella che è l'importanza di un ambiente sano e gestito in maniera sostenibile è fondamentale. Oggi ci troviamo al giorno successivo rispetto alla manifestazione che c'è stata ieri, molto importante a livello nazionale. Vediamo quanto anche dei ragazzini, adolescenti o preadolescenti, possano essere importanti nel sensibilizzare a determinate tematiche ambientali tutta la società.